Ciao, sono Chiara Famiglietti e sono un'attrice, cantante e performer di musical theater italiana. Sono nata il 6 luglio del 1996 a Roma e vivo tuttora nella capitale. Ho iniziato ad approcciarmi allo studio di recitazione e canto fin da bambina, intorno ai 6 anni, quando ho iniziato a frequentare diversi corsi tenuti da professionisti del settore. Nel 2018 mi sono diplomata in musical theater presso l'Accademia Internazionale del Musical di Roma e in seguito ho approfondito particolarmente il discorso canto e voce, a me particolarmente caro, seguendo le orme di professionisti come Rossana Casale, Elena Biolcati, Silvia Di Stefano, Donatella Pandimiglio e molti altri. Per quanto riguarda i miei studi in recitazione, invece, sono stata seguita da professionisti del calibro di Lilli Cecere, direttrice dell'Accademia La Cometa di Roma, Andrea Pangallo, Marco Simeoli, Spalla del Grande Gigi Proietti, Cinzia Letto e numerosi altri. Ho frequentato diversi corsi e seminari di aggiornamento che riguardano il doppiaggio sia recitato che cantato, una mia grande passione insieme alla lettura e all'arte, e nel 2019 mi sono laureata in scienze dell'educazione e della formazione. Al momento sono impegnata nel conseguimento di un master universitario in logopedia, foniatria e vocologia artistica. Sono recentemente stata protagonista di un musical of Broadway andato in scena a Roma, dal titolo The Last Five Years, diretto da Daniele Venturini. Altri lavori teatrali che mi riguardano sono Lady Oscar, François Versailles Rock Drama, un'opera rock diretta da Andrea Palotto, Steverini, una commedia musicale all'italiana diretta da Fabrizio Angelini, e TV Invasion, una musical comedy totalmente inedita, che nell'agosto del 2018 ha partecipato al Fringe Festival di Edimburgo. Grazie a tutti.